Ehi, genitore! Sai cos'è il cyberbullismo? È una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali. Cerca di capire se c'è qualcosa che non va quando tuo figlio è allo smartphone o al computer. Se sospetti che possa essere bullo o vittima, puoi rivolgerti agli insegnanti, al medico di base, allo psicologo, al 114 emergenza infanzia o alla polizia postale. Chiedi aiuto. Non fare lo spettatore.